L'AICS Comitato Provinciale di Agrigento ha concluso un accordo con l'Agriturismo Monticelli di Mussomeli per il coordinamento di una stagione estiva all'insegna del divertimento e del contatto con la natura e gli animali. Il servizio di Gaetano Ravana. La sinergia tra l'AICS e i privati, quindi in questo caso l'inventatore Nola, la porterà nel borgo di Mussomeli alla creazione di un turismo esperienziale e sicuramente a un progetto molto ambizioso che sarà il primo parco medievale dei Cinque Sensi. Oggi proprio siamo qua per firmare questo protocollo d'intesa alla presenza del nostro vicepresidente regionale Giuseppe Pellix. All'Agriturismo Monticelli noi abbiamo trovato un luogo bellissimo, pieno di contatti con la natura, con questi animali meravigliosi, ma soprattutto con la sapienza imprenditoriale dell'imprenditore Nola, del proprietario che ha realizzato qualcosa di veramente importante. Nell'entroterra siciliana, in quel vallone dal quale io appartengo, posso chiaramente dire di aver trovato un imprenditore capace, che ha la sensibilità di capire quale sono le esigenze nostre del territorio e del mondo dell'AICS, un mondo nazionale che ha bisogno di esprimere quella fetta di cittadini, quella fetta di sportivi, quella fetta di professionisti che ha bisogno di staccare la spina dalla tecnologia e avvalersi della natura, del bisogno e del contatto con la natura. E proprio grazie all'intesa che abbiamo raggiunto con l'imprenditore Nola, vogliamo far sì che questo luogo possa essere il centro di tante manifestazioni sportive, dove al centro ci deve essere la natura, ma soprattutto la voglia di vivere di nuovo all'area aperta con gli altri dopo due anni di Covid. Sono felice oggi per aver iniziato un accordo tra la presidenza provinciale dell'AICS di Agrigento per favorire lo sport e la comunicazione sociale tra le persone provenienti anche da tutta Italia, specialmente giovani, per portare avanti un discorso turistico in cui la mia struttura, non per vandarmi, ma offre svariati settori, quale la piscina coperta, la piscina scoperta, una bellissima palestra e poi, come sentite dagli uccelli, siamo immersi nella natura. Quindi è quale migliore presentazione della Sicilia presentare queste peculiarità. Oltre la gastronomia, perché qua facciamo una buona cucina con prodotti locali a zero. Vi ricordo che la nostra struttura è tutta inserita nel biologico.